Presidente Catagni, numeri importanti per questa prima raccolta alimentare da parte del Consiglio Comunale di Empoli? Sì, numeri molto importanti e inattesi, cioè sono state raccolte quasi due tonnellate di prodotti alimentari, una tonnellata è 857 mila, per cui sono veramente dei numeri grossi che andranno a dare una mano a tutte quelle famiglie che si trovano in questo momento in difficoltà e soprattutto in difficoltà economica dal punto di vista proprio dell'approvvigionamento alimentare. Secondo me il valore, il peso di questa raccolta è ancora maggiore perché il Consiglio Comunale della città, quindi tutta la città simbolicamente, che ha messo un giorno del suo tempo per dare una mano a chi ha bisogno, cioè un impegno civico per la comunità che loro rappresentano. Quindi un grazie veramente di cuore a tutto il Consiglio Comunale e all'impegno che hanno messo, i numeri dimostrano che l'impegno c'è stato. In quale circuito distributivo entreranno questi prodotti? Questi prodotti andranno alle associazioni di Empoli che aiutano le persone in stato di difficoltà, perché siccome in tutti gli altri comuni sono state fatte iniziative più o meno analoghe, spesse sospese, raccolte alimentari e ognuno l'ha tenuto sul suo territorio, credo che sia giusto che questa raccolta rimanga sul territorio di Empoli. Questo a me dispiace da un punto di vista della Presidente di Reso, perché il nostro impegno è da sempre nel costruire una rete equa, che raccolga qui nel centro dell'associazione e ridistribuisca le associazioni secondo i bisogni. Purtroppo in questo periodo di difficoltà si sono riaccesi i particolarismi, si sono riaccesi le voglie di mettere il cappello sulle iniziative e purtroppo c'è stato un po' di sfaldamento in questa rete. Io spero che riusciremo a ricomporla, a riammagliare tutte le maglie, però ecco questo è un momento un pochino difficile per il nostro progetto. Questo comunque rimarrà sul territorio di Empoli. Presidente del Consiglio Mantellassi, una prima esperienza assolutamente sorprendente. Deputazione è un'esperienza estremamente positiva, nel senso che tutto il Consiglio Comunale ha aderito con grande volontà, con grande spirito unitario a questa iniziativa. Ci sono cose che hanno un alto valore civico e che non hanno alcun tipo di divisione, quindi io ringrazio davvero tutti i gruppi consigliari, perché hanno dato disponibilità a far parte dei turni, cinque turni che hanno da due ore, che hanno coperto tutta la giornata e che hanno fatto sì che fisicamente si potesse fare questo tipo di raccolta. Poi c'è stata la risposta delle persone, che ovviamente è fondamentale perché dimostra ancora una volta che agli empolesi basta dare la possibilità di aiutare gli altri e chiedergli una mano e subito rispondono. L'abbiamo visto con quasi due tonnellate di alimenti che sono state raccolte, ma l'abbiamo visto anche con i sorrisi, le buone parole e la disponibilità che hanno avuto le persone che sono venute a lasciare gli alimenti sabato. E poi ha funzionato perché abbiamo avuto il supporto di un'associazione come il Reso, che abbiamo voluto coinvolgere subito, perché ha l'esperienza e la conoscenza di attività come queste e soprattutto perché potrà mettere questi alimenti all'interno di una rete, all'interno di un circuito ben coordinata, rete che deve ovviamente assolutamente stare in piedi e che così potrà attraverso le associazioni del nostro territorio, tutte le associazioni del nostro territorio che già fanno questa attività per tutto l'anno, distribuire questi alimenti e chi ne ha bisogno.